turn over ma non troppo e questa la parola d'ordine in casa napoli in vista della sfida di venerdì 17 contro il sassuolo una data che dalle parti del vesuvio non viene mai vista di buon occhio ma in queste stagioni partenopei vogliono sfatare ogni tipo di tabù anche quello della scaramanzia allora un occhio al campionato e un altro alla sfida di champions contro l'eintracht di francoforte spalletta in mente una serie di cambi che consentono a chi ha corso di più di rifiatare ma senza stravolgere più di tanto l'ossatura di una squadra che ha messo 15 punti di distacco tra se la seconda in classifica olivera elmas e politano dovrebbero essere questi tre nomi nuovi rispetto alle ultime gare di campionato e coppa italia il terzino uruguaggio concederà un turno di riposo a mario rui così come elmas si è conquistato con la sua stagione migliore da quando in azzurro un posto da titolare e davanti l'ex di turno darà il cambio allo zano ma occhio anche a juan jesus don belè e simeone campionato importante ma nessuno vuole sottovalutare la champions league anzi chi non ci sarà venerdì invece è l'altro ex quello più atteso jack raspadori ha subito un risentimento muscolare che lo terrà lontano dal campo almeno per le prossime due gare del napoli lui che sarebbe tornato da ex applaudito nella terra in cui è cresciuto calcisticamente come uomo il destino beffardo però non ha voluto così vincere l'europa league per tornare in champions lo dice apertamente max allegri nella conferenza stampa la vigilia della sfida con il lance il tecnico biancorriere non si nasconde ci tene a dimostrare quanto la juventus tenga la sorella minore delle coppe europee purtroppo siamo stati eliminati dalla champions ma ora l'europa league diventa un obiettivo importante proprio perché può essere una porta d'accesso per la prossima champions cerchiamo di approdare agli ottavi e poi arrivare in fondo l'allegri pensiero è tutto qui quello di chi non nasconde l'amarezza e l'arrabbiatura come lui stesso afferma per l'uscita ai gironi ma anche la volontà di voler tornare a tutti i costi nell'europa che conta ecco perché nulla andrà lasciato al caso nella sfida contro i transalpini in questa partita casalinga dobbiamo mettere le basi per andare in francia con un buon vantaggio impresa non facile se si considera che nelle ultime dieci gare il nance ha perso solo con il marsiglia e mantenuto per ben sei volte la porta inviolata non sarà semplice ha chiusato max hanno velocità e tecniche si gioca su 180 minuti gli unici indisponibili restano milic pocba e caio george nella lista dei convocati quadrato e anche bonucci tutti arrolati per il raggiungimento di un obiettivo comune lo stesso che avrà anche la roma di jose burigno chiamata ad affrontare negli spareggi salisburgo lo special one potrebbe concedere minuti a chi ha giocato meno conscio del fatto che a differenza della juve il ritorno in champions può e deve passare prima di tutto per il campionato il milan rialza la testa e lo fa nella gara più importante è soltanto l'andata ma la vittoria nella gara degli ottavi di finale di champions league contro il tottenham dimostra che i rossoneri hanno riattaccato la spina e lo hanno fatto quando contava di più una vera impresa quella degli uomini di pioli che si lasciano alle spalle la crisi in campionato pronti via e bastano solo sette minuti abraham diaz per insaccare di testa nella rete della formazione inglese sfruttando una grande percussione di teo hernandez il terzino francese irriconoscibile rispetto alle ultime uscite e non solo per la chioma bionda teo sembra tornato quello di prima del mondiale quando era capace di trascinare i rossoneri come pochi altri giocatori il resto lo fa la caparbietà dell'ex real madrid che non ci sta la parata di foster e decide di rischiare anche la sua incolumità personale pur di insaccare il pallone del 1 a 0 gli altri 83 minuti sono una battaglia come l'ha definita antonio conte ma dalla quale a uscire vincitore c'è solo il milan i campioni d'italia non solo hanno giocato molto meglio ma tornano negli spogliatoi con il rammarico di non aver arrotondato il risultato in vista della sfida di ritorno dell'otto marzo unica nota stonata di una serata quasi perfetta ma non è tempo di rimpianti o rimorsi milan si gode quello che forse segnale più importante quello che tutti attendevano dopo quanto visto in campionato contro il torino si può senza dubbio dire il diavolo è tornato presentazione in grande stile alla bit per i mondiali di scherma di milano la cremessa internazionale si svolgerà nel capoluogo lombardo dal 22 al 30 luglio prossimi si tratta di un evento storico come sottolinea il presidente del comitato organizzatore marco fichera quest'evento finalmente arriva in milano e arriva in tutte le sue forze e sottolineo il fatto che le sue forze per sue forze io intendo che stiamo lavorando lacrimente come squadra perché il presidente rappresenta una squadra una squadra fatta da consiglieri federali che fanno parte della squadra del comitato da tante persone anche del territorio che stanno lavorando ogni giorno insieme a un nostro advisor per rendere milano orgogliosa del mondiale di schermo e la schermo orgogliosa di quello che stiamo facendo ci vuole tempo ci vuole pazienza ci vuole coraggio ma sono sfide che si vincono se noi alla società presentiamo e proponiamo dei progetti che funzionano la società li accoglie i bambini li accolgono le scuole li accolgono e diventa una cosa che ha da un valore aggiunto per tutti quindi ci vuole il coraggio di sapersi presentare all'esterno con dei progetti nuovi che poi attenzione non c'è nulla di innovativo c'è soltanto di un qualcosa che si mette a terra e si raggiunge un pubblico diverso la federazione da parte sua guarda al mondiale anche sotto l'aspetto dei risultati in vista delle olimpiadi di parigi come sottolinea il presidente paolo azzi mi aspetto tantissimo anche perché questi mondiali rappresentano una grossa fetta di qualifica olimpica non dico che che la decidano da soli ma certamente coi punteggi del mondiale si si va alle olimpiadi qui che